Ci siamo ritrovati questa mattina con le multe sulle nostre automobili. Un risveglio amaro per i residenti di Via Cavallerizzi e Viale del Gatto a Torre del Greco, che questa mattina hanno trovato le contravvenzioni sui loro veicoli con la discitura per mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla segnaletica verticale. Peccato che la stessa fosse del tutto insufficiente o poco visibile lungo tutto il tratto della strada, senza contare la striscia segnaletica che non corrisponde, secondo il codice della strada, ad un divieto di sosta. Su tutte le furie gli abitanti della zona, intervistati questa mattina da TV City. Voi avete visto la segnaletica? Per voi esiste la segnaletica? No. Per me la segnaletica non esiste. Ieri sera alle 9 ho parcheggiato, pioveva, ho parcheggiato. 20 metri più sopra qua, non c'è nessuna segnaletica. Stamattina mi sono ritrovato la multa, grazie ai nostri assessori e tutta la gente che governa questo paese. La segnaletica secondo lei era visibile? Non era visibile, non era visibile. Io non riesco a capire che cos'è. È un divieto, è una striscia segnaletica, un polizia municipale e basta. Non mi dice niente. Anche lei ha avuto la multa stamattina? Il cartello non l'ho avvertito, l'ho visto solo in fondo a tutto qui, a Via Capellerizzi, all'angolo, e pensavo che era solo questa strada, di cui questa qua, poi in secondo momento l'avranno messo, non lo so. In questa zona ce ne sono uno là e uno là. Io sono tornato a luna stanotte da lavoro, a luna. L'ho parcheggiata là prima di fruttivendolo, ok? Io faccio l'augurio, guardo io. Non li ho visti, non li ho letto. Però mi dice in questa zona, quanto è quantificata? Cinque metri, dieci metri la zona? Per me là è fuori zona, ok? Perché se guardiamo tutta la strada a salire non ce ne sono più. Che zona è? Cinque metri, dieci metri? O in questa via? Per me la zona può essere cinque metri. Ognuno la qualifica in un certo modo. quindi io lo potrei contestare. Indicare la strada, via Cavallerizzi, via del Gatto, via Allora c'è un'ordinanza, però non siete tenuti a leggere l'ordinanza, voi dovete vedere i segnali stradali. Ok, poi col vento, stanotte c'era vento, questi si piegavano, come vediamo quell'altro è piegato, quindi si riesce a vedere e non vedere. Di sera qua è poco illuminato, quindi, però io vado a quantificare la zona. Il problema è che è stata, è stata, è impostata male la situazione con il mercato che fanno il venerdì mattina e non era il giorno per fare la pulizia della strada, questo è tutto. Che ben venga queste cose di pulizia che stiamo diciamo in un paese più pulito ma con segnaletiche fatte bene che non si vedono in mal tempo, ha fatto abbassare diciamo tutte le segnaletiche, messe male che non si leggeva niente. Io sono tornato da lavoro e stamattina mi sono trovato il verbale sull'auto, non c'era diciamo l'esigenza giusta, anche perché c'era un mercato settimanale che fanno qui, non sappiamo proprio dove mettere le auto queste giornate qui. Il dispositivo di viabilità era stato posto per consentire lo spazzamento dalle ore 23.30 di giovedì 19 alle ore 11 di venerdì 20 gennaio. Una scelta illogica ha tenuto conto che la giornata è coincisa con quella del mercato settimanale in via circunvallazione. Anche noi abbiamo avuto la multa stamattina senza segnaletica, senza avviso non sapevamo niente, ci siamo ritrovati con una multa sulla macchina. Dove la dobbiamo mettere? Non si sa perché hanno scelto proprio giornata di mercato, non hanno mai spazzato in vita loro, hanno aspettato stamattina e questo è. A che ora mettono le mani i vigili urbani? Non lo sappiamo. Viene prima delle nove mattina, alle otto e mezza viene qua, incomincia da via Cavallarizzi giù a tutto, finendo coppa tutto, fa il murdo a tutti. Mi sono spiegato dalle otto e mezza in poi viene questo vigilo urbano e un'altra vigilia. Non è giusto che uno va a faticare la mattina, perché già la macchina la sera, alle otto e mezza viene a prendere la macchina e già trovano la multa vicina alla macchina con un guardia che arriva due di lì. Che modo sono questi? Non ci capisco. A seguito di numerose segnalazioni, anche da altre zone della città, è stato chiamato in causa il comandante Salvatore Visone, dirigente della polizia locale.